Siamo già arrivati a Natale, ma devo dire che non ci siamo annoiati in questo periodo perché sin dopo la festa dell'Uva abbiamo iniziato subito a lavorare a questo grande evento perché tanti non ci pensano, ma in realtà il Natale è l'evento più lungo e anche più complicato da organizzare. Abbiamo voluto, con le risorse a disposizione, perché comunque non sono state fatte pazzie dal punto di vista dei costi, ma abbiamo voluto giocare sulla fantasia e quindi grazie al lavoro e al coordinamento che abbiamo avuto con la Fondazione Bardolino Top, che ringrazio, al Presidente Montresor, all'Assessore Fracaroli che hanno voluto portare un po' di freschezza a questo evento e da qui è nato qualcosa di cui siamo particolarmente orgogliosi perché crediamo che quest'anno il villaggio di Bardolino farà parecchio parlare di sé. Basta vedere la pista di patinaggio così grande e permettetemi di dire anche forse la più bella del lago perché non solo così ampia ma anche perché è collocata in un posto magico, unico, come potete vedere di fronte a questa villa meravigliosa e quindi venite a Bardolino, venite a trovarci perché sarà un Natale scoppiettante. Siamo giunti alle festività di Natale dopo una stagione impegnativa dal punto di vista turistico e ora è il momento di godere anche noi residenti di questo bellissimo posto, di questo bellissimo paesaggio. In queste 45 giorni l'offerta che abbiamo deciso di proporre è un'offerta molto ampia che speriamo possa coprire tutte le fasce di età. Abbiamo una pista di patinaggio molto più grande rispetto agli anni precedenti per tutti i ragazzi e i bambini che non vedono l'ora di poterla utilizzare mentre un ampio mercatino con 40 casette, con un'offerta gastronomica e un'offerta commerciale che permettono di girare per le vie del paese, godersi anche le luci, gli addobbi che con l'aiuto dell'amministrazione comunale siamo riusciti ad allestire. Le giornate clou saranno molte, partiamo da oggi che è l'apertura, dunque tanti bambini aspettavano questo momento. Poi il 6 dicembre, che è patrono di Bardolino, ci sarà l'accensione dell'albero che sarà posizionato nella piazza centrale davanti alla chiesa. Poi varie attività durante tutto il mese di dicembre con la festa dell'ultimo dell'anno dove torneranno i fuochi d'artificio, ci sarà un concerto di un'importante band e un DJ set che ci farà ballare fino a tarda notte. Poi il tutto terminerà il 6 dicembre con il classico bruyel per la bruciata la vecchia al centro nautico di Bardolino. Sicuramente questo è un periodo che dobbiamo rilanciare innanzitutto per far vedere che Bardolino è interessante non solo nel periodo estivo ma anche nel periodo invernale. L'occhio di riguardo per il residente perché questo è il periodo comunque in cui il paese è vissuto da chi il paese lo vive innanzitutto come residente ma chi ha l'opportunità di godere anche questo posto che forse è ancora più bello in questo periodo. Proprio per questo abbiamo deciso di investire sulla pista. quest'anno è il triplo rispetto agli anni scorsi e c'è fermento c'è fermento perché solo l'istruzione nelle scuole i bambini c'è proprio l'entusiasmo e la voglia di vivere questo periodo. Abbiamo introdotto anche la casetta di Babbo Natale ci sarà Babbo Natale stesso nei weekend per il ritiro delle letterine dei bambini. Abbiamo puntato inoltre sul Capodanno avremo una band, un concerto con i fuochi artificio perché c'è proprio questa richiesta di voler tornare a godersi il paese e noi vogliamo soddisfarla il più possibile a pieno.